bene amici di telefono.net sempre grazie a lg questa questa anteprima lg optimus black un telefono che ci ha colpito tantissimo per il design soprattutto spessore 9,2 mm peso 109 grammi vi assicuro che tenere in mano questo telefono è davvero incredibile perché sembra un telefono senza batteria questo spessore è stato ricavato grazie prima di tutto all'altoparlante come vedete nascosto qui nella cornice primo telefono che ha questa caratteristica con una batteria ristudiata molto sottile pur non rinunciando ai 1500 mAh quindi sicuramente performante questo appunto ha consentito questo design molto particolare altra novità che troviamo su questo telefono il display da 800 x 480 pixel ma con tecnologia che lg chiama nova quindi molto più luminoso dello standard arriviamo a 700 nit andate a vedere poi i nit della concorrenza se riuscite a trovarli ma soprattutto con un consumo della batteria molto molto limitato soprattutto quando abbiamo sfondi bianchi se andiamo sul browser piuttosto sulle mail tendenzialmente molti sfondi che visualizziamo sul telefono sono bianchi in questa fase il telefono sta consumando molto poco grazie a questa tecnologia per quanto riguarda il sistema operativo android 2.2 sicuramente aggiornabile alla 2.3 ce l'hanno confermato non sappiamo ancora quando ma sicuramente non tarderà a arrivare l'aggiornamento e una reattività al touchscreen abbastanza buona ovviamente quella che stiamo provando è una versione software beta non definitiva quando uscirà sul mercato retail lo proveremo sicuramente in maniera più approfondita e vi daremo conto delle prestazioni camera anteriore per tutte le applicazioni che la usano o che la useranno camera posteriore 5 megapixel con flash led per telefonia.net andrea galeazzi